Senta, ora le spiego una cosa che è giusto che lei sa, l'appartamento non so fa a Dani, d'accordo? L'appartamento? Non ci sta a Nezzoli, per quale motivo ora lei sale? Me lo dica, e allora? Allora c'è scritto vendesi appartamento. E non ci sta a Nezzoli, signore? Non ci sta? Appunto, e allora le conviene a lei? E come chi è? Sofani, ho chiamato il numero a Torri, no? Faccia lei così no, ho un problema lì a Torri. Non c'era anche un fori da Torri dentro? Sì, c'erano altre cose, però non so di chiaro. L'appartamento si trova in un posto dove abbiamo la possibilità, in qualche modo, non ci sono state nessun... L'altro giorno siamo stati soli, dal momento che dicevamo telefonate, le diamo il codice così quando lo chiamano a fa, non c'è problemi. Trapani, lei deve sempre con se... non ci sta, altrimenti la città da sole è d'ori, eh? Conviene a... pronto? Pronto. E non la sento. Ma lei non ha soli i fori come personalità, no? O sbaglio? Cioè? Lei come personalità, nel momento che prende l'appartamento, io glielo do, però non deve soli, non ci stanno le persone perché rimane il fori. L'unica persona che mi chiede a far sali da solo, pensi un po'. Sbaglio? Beh, io non capisco quello. Eh, io sto dicendo, lei come giornalista, se prende l'appartamento si deve rendere conto che comunque, sai, questo è normale, però non ci sta, le conviene a lei allora? È giusto? Ma io voglio comprare l'appartamento, però lei mi dice che... Sì, però se lei lo vuole comprare, però mi sta dicendo... Eh, 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 si immagini lei, mi creda, quando io dico certe cose, poi... È sempre quello che entra che ha disagi, poi, l'unico, l'unico. Ci ha chiamato giovedì e abbiamo risposto all'annuncio, ma non c'è stata per la casa... C'erano problemi, signore? Di che segno è la ragazza? La ragazza è il terzo segno all'affari. Segno? E si chiama Angela. Angela, vabbè. E non c'è stato. E lui come si chiama, tuo cugino? Il cugino si chiama Roberto e c'è il sole dell'affari dell'affari. E Roberto. Vediamo, vediamo un po'. Ecco. Ah, buonasera. Senta, l'abbiamo chiamata ieri sera, ma perché non c'è stato Fossoli, rimane, no? Come? Il signor Fede per fuori? Sì, ma che non c'è stato? Sono Malli, Giorgio. Giorgio Malli? Sì, Malli. Abbiamo avuto il problema, io dico, ma possibile tutte le volte, quando da lunedì a venerdì non c'è stata mai una possibilità al Fossoli? Ma io rimango così casco dalle nuole, perché allora il direttore doveva chiamare me. Abbiamo avuto il problema da lunedì a venerdì per chiamarla a Faduno. Per quale motivo adesso? Per chiamare? Ah, l'ha chiamato lei. Allora me lo dica. Ma se lei non vuole non fa niente, l'importante è che lei sappia che io non so ne fare con Samantha. Non ci sta, ne fa rimanere solo a letto a fare, immagina le pieraccioni poi. Ho mio fratello che sta prendendo l'aereo per, devo andare in Francia, e ha avuto il problema dello San, non ci stanno, almeno le persone così non ci rimedono, cioè penso no, non mi conviene a me personalmente. Non ho capito che cosa dici. Ah, scusi, scusi. Il suo fratello deve andare a Parigi e che problema c'è? No, mio parente, mio fratello, mio fratello, deve andare a Parigi e ha il grosso problema che hanno tutti i viaggiatori a Fassoli. Ma hanno detto non ti preoccupare, chiama Fiumicino al centralino, a lei ho pensato bene di chiamare lei, ma non è il caso che, almeno non ho problemi io. No, a proposito, ma non è che è soli, non le conviene a lui, glielo dico io, preferisce che glielo dico così non ho problemi? Per che cosa? Allora, l'abbiamo chiamata giovedì, la signorina che ci ha risposto ci ha dato l'ordine a forse per la serata. Ora, se abbiamo due serate attaccate e lei non ha disponibilità, può gentilmente fare solo, almeno non abbiamo problemi noi, di avere sottare. Si ricorda almeno questo? Lo chiede al signor Retano. Ecco, vedi che lo sa? Allora, se vuole la mandiamo anche l'assegno prima, non è quello il problema, però a Bergamo, so fare ci ha stati il signor Retano. Sì, ma non ha soldari, faccio soni il signor Retano? Come? Non ce l'ha soldari, perché altrimenti sono la signora che la chiama, perché non vorrei, perché la strada di Bergamo c'è sottoni, però c'è sottoni per l'Italia, le conviene a lei? Immagine che faccia fanno quando avranno dire, ah, signor Retano, poi l'abbiamo già chiamata, lei non c'è sottoni, è l'unico lei. Ma senta, ma lui, ma lei come si chiama? Marcolin l'altro anno aveva fatto un contratto di bossattari, con la canzone Italia, si ricorda? Italia, Italia, se la ricorda? Ma dove? Vi spiego che festa è, questa è l'unica festa in Italia che facciamo ogni anno per quanto riguarda e non ci abbiamo le persone, poi immagini, d'accordo, perciò... E quando avete deciso di fare questa festa? L'abbiamo fatta soltanto ed esclusivamente in modo che biscardi, perché poi immagina tu se tante... rimane la gente, credimi, d'accordo, Mino? Hai notato quando non c'è stato, per esempio, l'unica volta, anche perché, eh? E io devo scendere a Bruzils. A Bruklin? Bruzils. Vicino l'Antaraz. Vicino l'Antaraz? Lei sa che lavoro faccio io? No, non lo so. Mi scusate. Ma lei mi non è che lavoro faccio. Faccio il Druvi io, capisci signora? Lei immagina a che ora mi alzo? Sì, 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 immagino, ma anche faccio il lavoro e mi alzo presto. Ho capito, ma non so, due anni che faccio il Druvi, non sono abituato, eh? Via. Drusdra. In che zona si trova? Drusdra. Vicino Ponte Vecchio? Drusdra. Sull'esagonale. Attraversando il ponte, lì c'è una specie di inferriata e c'è l'Udare, l'ha visto sopra fuori, Sani? Quello numero là, attraverso quel ponte lì. Sì, vabbè, tanto lo trovo, sei vicino al Ponte Vecchio. Vabbè, via Drusdra, Roberto Drusdra? Sì. E poi era un filosofo. Sì. È della X, della Sani, lei sa che i telefoni di oggi hanno avuto il Fodori. Ecco, dentro c'era lo Spadi, l'ho cambiato e mi hanno dato il GSM e quello col furti. Adesso, cambiando le due pilloline, io l'ho portato dietro, ma mi tocca al 119 e senti che ti dicono. Su cosa, mi scusi? Allora, mi scusi, eh? Ho comprato il cellulare. Sì. Ma mi sente bene? Eh, sì, però... Ecco, all'interno del cellulare ho cambiato le batterie dove c'era lo Sparty. Allora, lei sa che quando cambia le pilloline all'interno lo Sparty diventa automatico, no? Come devo fare? Perché il Fodori non c'è, altrimenti faccio il 75. Allora mi hanno detto, chiama al 119 e fatti spiegare. All'interno della batteria, lei sa che fa questo lavoro, ci sono i furti, ci sono i billi, sono quelle due codine che attaccano l'inquietamento. Allora, come devo fare dal momento che lo tolgo, resta il 19? Non ci stanno in segnalazioni, mi conviene staccarlo oppure, che ne so, lo devo riconsegnare. Lei mi sta dicendo, lo toglie, resta il 19, cosa vuol dire? Significa che se togliamo i due, chiamiamoli così, furtis, furtis, c'è scritto in inglese, viene equivalizzato perché rimane il rosso. All'acqua il rosso non c'è la linea. Siamo della PIS, dell'affari di Stato Fodori, dei compleanni. Esatto, no? Il signore ha dato un'altra stanza dove in questa stanza non c'è stato, siamo gli unici da fare. Ecco perché. Allora io mi chiedo qual è il problema se dobbiamo solare. Siamo i primi? Siamo dell'associazione Trimps, che in America circola da 13 anni e non abbiamo uova in manessone e tare a fare. Pensi un po'. Può darmi il nome e cognome per favore? Nome e cognome di cosa? Perché adesso vi faccio una denuncia e chiamo sia l'Ars, sia la FUR2S e sia la BBG. E dirò sia la BBG, sia l'Ars e la V2S che la GNV e la DUSID saranno cancellate dalla PIRS. Mi creda. E non scherzo. Faccia come creda. Aspetti, le prendo il numero, eh. Non è che avete per caso, perché l'altro giorno non ci stanno i sali del suono che fa il signore? Prego? Sì. Ecco, non è possibile far sali con la stanza 72? Si ricordi che nella vita, non glielo dico, mi creda, va bene? Tutti sappiamo cos'è il metodo Mai Tai, è il metodo quello che usano, va bene? Ma lei si sta prendendo per il c***o. Ma non mi sembra, signore, perché se noi siamo gli unici in Italia, le persone che chiamano dagli apparecchi non hanno il leasing, eh. Signore, se succede questo, è la colpa soltanto ed esclusivamente delle persone che tentano in qualche modo e mi creda, tutte le volte succede la stessa cosa. Da dove mi chiama? Eh, dal centro della SIDA. Da dove? SIDAR, SIDAR, che sono i controlli che si fanno per l'epidus. E' sempre l'apice, sono maggiori di fori. Faccia in modo che attraverso il bicchiere non riesca nessuno perché l'acqua a contatto, perché se l'orecchio è un po' arrossato, bisogna sottovalutare qual è l'acqua e la parte arrossata. In modo che abbiamo, diciamo, in qualche modo incastrate i vasi sanguigni. lei che sta lavorando non pensa poi ci sta improvvisando mi dica la sua se vuole rispondere altrimenti può anche non rispondere se lei mi fa la domanda lui risponde che gli rispondo sto dicendo signora lei che sta lavorando e ha seguito questa telefonatina nel migliore dei modi con l'applauso non pensa che non ci stanno lei deve dire solo la sua tossolina è l'unico pubblico che a differenza degli altri posti nei teatri dove si fanno queste cose è l'unico, credetemi, no perché siete qui che a differenza sarà incredibile però, d'accordo? avete a New Jersey? No perché io sono andato a Sharon's, quando sono sceso mi hanno portato a Fadworth e da lì sono andato a New York senza usare l'aereo ma non ci stanno adesso all'interno così non abbiamo problemi perché sono qui da fuori mia moglie fate in modo che quest'anno non ci siano fuori delle persone tortuetarie ah, ce l'ha il galletto per il suo poi sono quella particolare eh, ma non ci stanno i soldi fare come coppia non ho capito la coppia non ci sta perché fuori quelli sono gli unici, eh? mi creda io glielo dico perché poi non è la prima volta che ho detto, le compro cioè gli unici che chi intende? no, sto dicendo se lei vende i 40.000 la coppia non ci stanno quelle sono le... mi creda capita delle volte che chi prende l'accoppiata così a parte i galletti non ci stanno quello dice ah, persona ah, la persona è la coppia così quella funziona più la muta però non ci stanno rimangono fuori sono gli unici e la razza quella poi dice la carne è migliore ma fa i galletti non ci stanno